Oh l'Empoli sta battendo 2-4 il Virtus Entella E ragazzi i 4 gol dell'Empoli li ha fatti Mancuso Poker di Mancuso Incredibile Tra l'altro con 3 assist di Stulac Siamo al 94esimo Quindi mancano 1-2 minuti di recupero Intanto sono a casa del mio amico che sta ridendo come un pazzo Ma si sta trattenendo E invece per Virtus Entella Un gol di Costa al 45esimo più 4 Un gol di Poli al 75esimo con assist di Costa Ah ragazzi poi vi invito anche ad andare a seguire il canale di questo mio amico Che fa dei video bruttissimi Non scherzo Fa dei video molto interessanti Si chiama Davide Fodardo E poi vi metterò il link del suo canale in descrizione Quindi ragazzi se volete andate a seguirlo Ripeto bravissimo Poi Edita alla grande E' veramente spettacolare Comunque torniamo alla partita Siamo all'ultimo minuto di recupero Empoli che poi la rimonta clamorosamente da 1-0 per il Virtus Entella Poi ha 1-3 per l'Empoli Con 3 gol di Mancuso Che ragazzi Mancuso Eh sì Mancuso scusate Ha fatto 3 gol In 4 minuti Mancuso ha fatto 3 gol in 4 minuti Clamoroso Ma smetti a dividere 3 gol in 4 minuti E poi al 71esimo Proprio così La battosta finale Del 4-2 Oh segna anche il 5-2 Clamoroso 5-2 Empoli Alla fine Vediamo Al 96esimo Vediamo se mi dice anche Di chi è Questo quinto gol dell'Empoli Intanto vi faccio vedere velocemente le altre partite Il Pisa che batte 1-0 Pordenone Lecce Frosinone Finisce 2-2 Cremonese Ascoli 3-3 Grandissima partita Anche questa Tra l'altro con tripletta di Bajic E qua 2-5 Vediamo chi ha segnato Non me lo dice ancora Chi ha segnato Intanto il 96esimo Gol di Nicola Stibolt Vabbè ragazzi La partita ormai è finita Quindi l'Empoli Che l'ha ribaltata clamorosamente E sta vincendo 5-2 Qua non si aggiunga più Eccola è finita Ciao a tutti ragazzi Buon pomeriggio